Per ora nessun trasloca, anche se il destino del comando della Polfer che dovrebbe lasciare la città della Zizzola per essere sistemato nella stazione di Fossano, non è ancora stato scritto, al momento non si hanno certezze che il presidio rimanga in città e proprio per scongiurare il pericolo della perdita di questo importante servizio che il primo cittadino ha incontrato il dirigente piemontese Salvatore Perrone, spiega il primo cittadino Bruna Sibille, con l'assessore Luciano Messa e il consigliere comunale delegato Pietro Ferrero abbiamo ricevuto in municipio il dirigente regionale della Polizia Ferroviaria Salvatore Perrone, abbiamo ribadito l'esigenza del mantenimento del servizio, aggiunge l'assessore Messa, nell'ambito della discussione durante la quale sono emerse tutte le criticità, alla base della riorganizzazione del servizio, abbiamo chiesto con forza che non vengano sbantellato il presidio di Piazza Roma, spiegando al dirigente che è un servizio fondamentale per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'intera area della stazione ferroviaria. I militari della stazione di Bra hanno proceduto a deferire alla magistratura albese, un soggetto braidese che dall'inizio dell'anno ha posto in essere una serie di comportamenti persecutori nei confronti della ex compagna, la relazione terminata verso la fine del 2012 per motivi caratteriali tra i due. Lui però non ha preso bene la cosa e ha iniziato a commettere una serie di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Si è aggirato a lungo tra le corsie dell'ipermercato Big Store di Via Donorione, poi si è impadronito di una scatola di alici marinate e l'ha nascosta nella tasca del giubbotto. Notato dal personale di vigilanza, il giovane albanese è stato poi fermato dai carabinieri del nucleo operativo, che lo hanno denunciato alla procura per furto. La refurtiva è stata restituita.